È stata Rosanna Lambertucci ad aprire la seconda edizione della rassegna Incontri d'autore che ha presentato il suo ultimo libro E sono corsa da te, dove racconta uno spaccato di vita personale ed intima a meno di un anno dalla scomparsa dell'ex marito Alberto Amodei. Una storia vera, è una storia che riguarda la mia vita nel corso dei due anni in cui mi sono trovata a ritrovare Alberto che è stato mio marito, il padre di mia figlia dal quale ero separata ma dal quale sono corsa quando è stato molto male e ho avuto bisogno di essere aiutato. Questo libro è un libro diverso dagli altri, non parla di diete parla di un qualcosa che riguarda Rosanna, non Rosanna Lambertucci ed è un libro che non doveva neanche diventare un libro era una lunga lettera a lui, una sorta di, come posso dire, confessione dell'anima è diventato un libro per una serie di circostanze fortuite e mi sono resa conto che è stato molto utile perché chi lo legge, chi lo ha letto mi ha ringraziata perché dentro c'è una storia che è di aiuto a tanti intanto c'è una grande storia d'amore e l'amore tante volte può proprio nascere nei momenti di difficoltà e forse sono a volte più le difficoltà che la felicità a unire le persone. Questo era un libro appunto che non poteva avere finalità economiche quindi quando io andavo con Alberto nelle stanze della radioterapia del Policlinico Gemelli purtroppo incontravo tante mamme con bambini piccoli e mi sono detta che doveva essere terribile mandare un bambino piccolo nella stanza della radioterapia Il Policlinico Gemelli, il professor Valentini che è stato il titolare diciamo è il titolare di questo settore ha voluto far diventare la stanza della radioterapia dei bambini un grande acquario e la macchina della radioterapia un sommergibile quindi il bambino si sente un po' capitannemo e pensa di andare ad affrontare un'avventura straordinaria Perfetto